Riconsegnata la città, la madonnina dei cappuccini. Miralfiore, sette indagati dopo lo scontro violento tra gang nigeriane. Atti vandalici nelle scuole, colpita anche la Brancati. Dalla regione, 7 milioni di euro ai comuni per la digitalizzazione. Miopia giovanile, i consigli per limitare il difetto visivo. Buona serata, ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è venerdì 25 agosto e apriamo questa prima edizione parlando dello svelamento della nuova e rinnovata madonnina dei cappuccini che è avvenuto proprio ieri, una madonnina completamente restaurata dopo la scossa fortissima di terremoto che si è percepita sul nostro territorio il 9 novembre scorso. Vediamo il servizio. Eccola qui, tornata al suo originale splendore ad assorbire lo sguardo della sua città. Simbolo sfortunato dello sfregio inflitto dal terremoto che lo scorso novembre aveva colpito Pesaro, la rigenerata madonnina dei cappuccini è stata svelata ieri alla cittadinanza tra l'imbrunire del tramonto. Eppure per la statua è una nuova alba, resa possibile grazie al lavoro di restyling fatto in questi mesi dai Lions Club Pesaro della Rovere unitamente a Renco, SPA e Comune di Pesaro. Un intervento dal costo di qualche migliaia di euro che ha permesso di applicare il restauro della madonnina, danneggiata la sua calotta cranica dal sisma di magnitudo 5.7 del 9 novembre scorso. Quello di ieri è stato un momento magico per tutti i fedeli presenti, ma anche per le numerose istituzioni che hanno accompagnato lo svelamento compiuto dall'assessore alfare Riccardo Pozzi. Cerimonia addolcita dalla musica del duo Le Rosse e dalla lettura del 33esimo canto del Paradiso di Dante Alighieri che invoca alla preghiera che San Bernardo rivolge alla Vergine Maria. Per noi è una giornata molto importante che ci rende molto orgogliosi e fieri, perché come ho avuto modo di dire è un contributo di sensibilità e concretezza che abbiamo dato alla città ridando e restituendo la madonnina nella pienezza pienamente recuperata. Devo ringraziare tutti i soci del club a partire da Chiara e da Stefano che hanno seguito passo per passo il recupero e tutti i soci che appunto hanno dato l'apporto e consentito. Un particolare ringraziamento anche a Eli che ha seguito la parte social, culturale dell'intervento e ringrazio anche la TV che è presente qui stasera che ci ha dato spazio a questo evento, quindi diffondere l'evento. Quindi io sono molto molto contento, molto soddisfatto e come recita la targa dove c'è un bisogno c'è l'ancio, perché noi siamo concreti, quindi il nostro motto è We Serve, noi serviamo e quindi in questo caso abbiamo servito, il nostro servizio è stato quello di restituire un emblema alla città. Bella emozione davvero perché la statua alla Madonna dei Capuccini è davvero il simbolo della città, non è un simbolo solo cristiano per i tanti credenti, non è solo il simbolo del quartiere di Pantano, ma è il simbolo della città. Come dicevo è un simbolo che purtroppo il 9 novembre è diventato anche insomma a grado il simbolo del terremoto, quindi insieme a Lions che subito si sono attivati per cercare di recuperare quella parte del capo che era caduta con quella forte scossa, abbiamo messo a disposizione con l'amministrazione comunale tutto quello che potevamo per il recupero della statua. Abbiamo trovato subito una bella rete di sinergia tra diversi partner, un grande grazie va sicuramente fatto alla Renco che è stato lo sponsor principale di questa iniziativa e quindi oggi un bel momento di festa per celebrare il ritorno di una statua nel suo posto e in una zona tra l'altro oggetto di una riqualificazione importante, perché qua alle mie spalle c'è il cavalcaferrovie, oggetto di un intervento di messa in sicurezza rispetto alle barriere, c'è il sottopasso ciclopedonale, anche quello oggetto di un intervento di riqualificazione importante e poi avverrà anche un deposito delle biciclette proprio nel parcheggio qui e quindi la statua va a chiudere un po' il cerchio rispetto agli interventi di riqualificazione di quest'area. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di cronaca ed esattamente con un fatto che risale a circa un anno fa avvenuto al Parco Miralfiore. Lo scontro tra due gang nigeriane per la supremazia della piazza Dispaccio aveva scatenato una cruda violenza da parte di 12 individui nei confronti di un loro connazionale rivale. Sette gli identificati ora sotto indagine. Il Parco Miralfiore torna alla cronaca per un episodio risalente a circa un anno fa, arrivato ora alle battute finali. Il fatto increscioso risale lo scorso 11 settembre con lo scontro tra due gang di nigeriani avvenuto a seguito della supremazia per spaccio contesa per il polmone verde di Pesaro. Per questo motivo gli individui coinvolti, una dozzina tutti di età coinpresa tra i 25 e i 35 anni, hanno aggredito due connazionali. Una spedizione punitiva che ha visto il branco armato di bastoni e bottiglie a cerchiare i due rivali seduti in quel momento su una panchina vicina all'area giochi per bambini. La preda però è solamente una. Le salgono sopra e la spostano di forza in un punto più imboscato, mentre altri del gruppo tenevano fermo con forza l'amico della vittima. Le telecamere di videosorveglianza del parco hanno ripreso l'aggressione, che è poi proseguita prendendo una macabra piega. Uno dei 12 individui, brandendo un macete da 32 cm con una lama da 19, ha posto fine all'assalto compiendo il gesto premeditato. Tenendo in pugno la mannaia, uno del gruppo ha mutilato buona parte del dito mignolo del piede del rivale, portando a termine la vendetta studiata. Il branco si è poi repentinamente dileguato e da lì i due presi di mira si sono diretti malmessi al pronto soccorso. Dopo aver ricevuto il referto di 40 giorni di prognosi, il soggetto ha poi esporto denuncia. Dei 12 indagati, 7 sono stati identificati, i quali però non è ancora chiaro se chiederanno meno di essere ascoltati davanti al giudice. Ed ora parliamo di scuola, perché nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo parlato degli atti vandalici che sono avvenuti nella scuola Chiara Lubic di Pantano, ai quali però ha fatto seguito un altro episodio simile che ha riguardato il plesso scolastico della Brancati. Due fatti distanti sia a livello logistico che di danni provocati, visto che anche in questa vicenda è stato fatto uso di estintori, senza però aver appiccato alcun fuoco, come nel caso dell'edificio di Vianiti. I due episodi sembrerebbero che siano avvenuti nel giro di poco tempo l'uno dall'altro. La mara scoperta è stata fatta ieri da alcuni addetti che di conseguenza hanno informato il dirigente scolastico, preside che ora assieme al Comune si sta già mobilitando per installare un sistema di allarme e videosorveglianza. 7 milioni di euro saranno destinati ai Comuni per incrementare l'offerta del territorio attraverso la digitalizzazione. Questi gli aspetti del bando promosso oggi dalla Regione Marche. È un bando che riguarda la digitalizzazione, la transizione digitale. Ci sono risorse per ben 7 milioni di euro. I beneficiari sono i Comuni. E daremo dei voucher fino a un massimo di 45 mila euro. Quindi potenzialmente saranno molti Comuni che potranno essere finanziati. Dovranno presentare dei progetti che sostanzialmente prevedono il coinvolgimento nel proprio territorio di associazioni, proloco, qualsiasi soggetto possa dare un contributo per la valorizzazione turistica, ma anche dei locali commerciali, artigianali, attraverso lo strumento della digitalizzazione. Quindi il web, siti internet, app. Lo facciamo perché è sempre più importante ormai collegare, connettersi e valorizzare il proprio territorio attraverso la digitalizzazione. Sappiamo che per avvicinare le distanze, ridurre i tempi, la comunicazione, la valorizzazione soprattutto del nostro introterra, ma non solo, passa attraverso la comunicazione digitale, attraverso internet. Quindi la Regione mette a disposizione una somma importante a disposizione dei Comuni. Questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Pesaro si è sviluppato un importante incontro tra CNA, Comune, e Quinhuangdao, dove è stato ridato slancio al gemellaggio siglato nel 1985 tra Pesaro e la stessa città cinese. L'obiettivo era quello di intensificare i rapporti commerciali, turistici e culturali fra le due realtà. Si è tenuto oggi a Pesaro un importante incontro al vertice tra la delegazione della città cinese di Qingguangdao e la delegazione del Comune di Pesaro con la mediazione della CNA, alla presenza appunto dei vertici CNA. Ascoltiamo di cosa si è parlato nel corso di questo incontro. Sono sempre più frequenti i contatti con la Cina, ricordiamo la grandissima operazione di Shanghai cui ancora oggi 400 metri dalla metropolitana e le ferrate principali sono brandizzate con Pesaro le Marche Rossini Opera Festival, ma soprattutto l'occasione qui oggi di riprendere un gemellaggio storico quello del 2005 con Qingguangdao che nel 2005 ebbe una ripresa importante con il contributo che Qingguangdao diede anche all'accordo di salvataggio e di rilancio dell'azienda Benelli Moto e che ora sulla scia e sull'interesse soprattutto generato in Cina da Pesaro a capitale italiana della cultura riprende su uno degli assi principali dello sviluppo di Qingguangdao che è appunto il turismo culturale. Qingguangdao è una città in forte espansione, innovativa e una delle prime tre città della Cina che presenta comunque uno sviluppo che va nell'ambito del green, del benessere quindi hanno un indotto legato al turismo così che potrebbe essere anche attrattivo per le nostre aziende soprattutto l'inno gastronomia, i servizi per il turismo. Abbiamo visto che hanno una grande richiesta eventualmente anche di servizi sociali, quindi di medici perché la popolazione in Cina comunque ci hanno detto che sta invecchiando e in questa città si sta rendendo una città vivibile e di qualità della vita più alta quindi le strutture sanitarie e tutto quello che potrebbe essere l'indotto anche dell'impresa legata appunto alla sanità potrebbe avere un gran sviluppo come per adesso in primis è quello del turismo che è il più importante. Il rapporto con la Cina si è evoluto tantissimo anche come paese Italia siamo sempre stati vicini, dagli anni 70 quando c'è stato un avvicinamento diplomatico è stato un crescendo, purtroppo non è spesso coinciso con una presenza di aziende e presenza fisica italiana in Cina ma dal punto di vista culturale di dialogo senz'altro sì sempre di più anche perché i tratti comuni e condivisi sono tanti per cui credo che possiamo recitare un mea colpa noi di non aver forse posto troppa attenzione a quel mercato lì però siamo sempre in tempo, insomma è un mercato che anche in questo post-covid anzi forse il post-covid per quanto può essere un momento duro è anche un momento di grande opportunità. E vi ricordiamo che l'intero speciale televisivo dedicato a questo argomento che avete appena visto andrà in onda su Rossini TV martedì 29 agosto in prima serata alle ore 21.20 ed ora cambiamo di nuovo argomento, la miopia colpirà entro i prossimi 30 anni il 50% della popolazione giovanile. Ecco una serie di consigli per cercare di limitare questo difetto visivo. Un difetto visivo sempre più frequente nella società di oggi è la miopia, la miopia giovanile in particolar modo? Assolutamente sì, sempre più ragazzi sono miopi a causa dell'utilizzo di dispositivi elettronici anche sicuramente la fase della pandemia non ha aiutato ovviamente a causa della DAD e a causa dello stare dentro casa fondamentalmente. I dati statistici già qualche anno fa non davano delle belle notizie. Gli ultimi dati, e parliamo di dati 2022-2023, parlano del 50% della popolazione giovanile nei prossimi 30 anni miope causato ovviamente dall'utilizzo sempre più accentuato dei dispositivi elettronici. Dispositivi elettronici che ci portano a una visione ravvicinata sempre più stressante anche a causa della luce blu che sappiamo tutti ormai essere uno dei problemi principali dello stress a distanza ravvicinata con questi dispositivi, quindi computer, tablet e soprattutto cellulari. Oggi fortunatamente qualche soluzione in più ce l'abbiamo, sia dal punto di vista delle lenti a contatto così come delle lenti oftalmiche introdotte sul mercato ormai da tre anni con la tecnologia di DIMS, scusatemi. Tecnologia che tende a cercare di rallentare il peggioramento miopico evitando la crescita dell'occhio. Non si può parlare ovviamente di recupero o di miglioramento ma sicuramente i dati statistici sono abbastanza confortanti perché comunque oltre il 70% dei bambini che stanno utilizzando queste lenti ormai da tre anni ha un netto rallentamento del peggioramento miopico. Quando parliamo di rallentamento della miopia di cosa parliamo? Se un bambino ultimamente aveva peggioramenti anche di una diottria in un anno l'obiettivo di questa lente non sarà certo quello di bloccarla del tutto ma magari di aiutare un incremento miopico minimo quindi se abitualmente ho come dicevo una diottria di peggioramento magari con questa tecnologia possa avere uno 0,25 in un anno perché l'obiettivo principale è portare il bambino di oggi a un'età adulta con una miopia contenuta perché il vero grosso problema delle miopie elevate sono poi gli aspetti patologici che possono determinare le miopie alte. Anche in vista magari di una possibile operazione futura? Assolutamente sì, un discorso è fare un intervento su una miopia medio-bassa e un discorso sarà fare un intervento su una miopia medio-alta poi ovviamente questi sono discorsi che riguardano l'aspetto puramente oculistico e quindi non mi permetto di subentrare però sì, sicuramente sarà più semplice operare una miopia di meno 2 che una miopia di meno 5. Ad oggi, parliamo di dati ottica DR, quindi minimi e piccolissimi, i risultati sono di oltre l'80%. Tutti i bambini che hanno fatto lente con tecnologia DIMS ad oggi hanno avuto incrementi minimi nell'ordine dello 0,25. In prospettiva futura, quindi nei prossimi 30 anni, un ragazzo su due soffrirà di questo difetto, attualmente invece il dato statistico qual è? Oltre il 39%, erano già dati di qualche anno fa, sono stati confermati, quindi comunque oltre il 30% della popolazione giovanile in Europa è miope. Parliamo di dati abbastanza recenti, consideriamo che in paesi asiatici, faccio un nome su tutti, Taiwan, oltre l'85% della popolazione giovanile è già miope. Questo può dipendere solamente dalle luci blu, come detto in precedenza, oppure anche da altri fattori? Oggi i consigli che si danno ai genitori sono quelli di tenere i ragazzi più possibili all'aperto, la luce naturale tende a rallentare il peggioramento miopico. Oltre all'occhiale è presente anche qualcosa di più specifico anche per quanto riguarda le lenti a contatto? Oggi sì, abbiamo diverse soluzioni dalla lente da ortocratologia di cui abbiamo già parlato in passato, abbiamo la lente a contatto giornaliera morbida sempre con tecnologia DIMS, quindi ha la stessa funzionalità della lente da occhiale con tecnologia DIMS, abbiamo la lente a rilascio graduale di tirosina, quindi una molecola naturale che va a indurire la sclera per evitare la crescita, sia con l'una che con le altre i risultati anche in questo caso sono più che positivi, quindi assolutamente le soluzioni oggi ci sono. Nel ricordo dei fatti avvenuti il 30 agosto 1944, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Monte Labate ha organizzato una camminata storica lungo la linea gotica, un percorso notturno intitolato La Notte del Coraggio, che partirà alle 20.30 dal bunker di Montecchio in Via Belvedere, proseguirà con una visita al cimitero di guerra e poi terminerà con l'arrivo alle bandiere di quota 111 di Borgo Marcellino. Una tavolata lunga decine di metri con 4.048 uova sode, 6.072 cucchiaini di maionese e 2.024 pizze rossine da degustare per omaggiare Pesaro, capitale italiana della cultura. Saranno questi gli ingredienti dell'edizione 2023 della Rossini Festival della Pizza Pesarese, in programma la sera di mercoledì 6 settembre, data annunciata dal sindaco Ricci nella serata di ieri, alla quale seguirà nei prossimi giorni il calendario completo del festival. Domani, sabato 26 agosto, invece, tornerà per la sua ventitresima edizione la sfilata canina Cane di razza è bello, ma Metticcio è meglio. Il concorso di bellezza organizzato da Animal House si svolgerà in Piazza del Popolo alle ore 21 e sarà riservato rigorosamente ai cani non di razza. Andrà in scena lunedì 28 agosto al Parco Trulla di Pantano la serata conclusiva di Pesaro, una capitale tra borghi e quartieri. Vediamo. Pesaro è una capitale tra borghi e quartieri, sì, l'ultimo evento. Questa è un'idea avuta da Daniele Vimini, l'assessore alla bellezza, nonché vice sindaco, di creare una festa dedicata a tutti i quartieri come chiusura di tutta la programmazione che noi abbiamo fatto, perché tutta l'estate tutti i 12 quartieri più il municipio di Montecicardo abbiamo realizzato degli eventi nei propri quartieri, eventi socioculturali dove c'era la musica, dove c'era lo spettacolo, riflessione oppure come una serata dedicata alle criticità del web. E tutto questo grazie a una persona che va nominata, Monica Norito, che ci coordina in tutte le serate e ci consiglia il meglio da proporre nei nostri quartieri. Quindi il grazie in primis va a Daniele Vimini che ha sempre avuto in mente queste idee di tutte queste serate e di creare questa serata finale dove sono coinvolti tutti i presidenti di quartiere e il presidente di Montecicardo. E poi, se mi permetti, voglio anche ringraziare Ugo Betti che ci coordina in tutto quello che è l'attrezzatura, audio e luci. Il centro operativo che ci porta le attrezzature a livello di tavoli e sedie. E quindi eccoci a questa serata dedicata alla musica con un artista, un vero artista di Pesaro, Gio Castellani. Sarà così la festa di chiusura. Tutta questa programmazione che è partita da giugno e si è conclusa adesso a fine. E allora non perdetevi l'appuntamento di lunedì sera e quindi è un appello a partecipare a tutto il quartiere di Pantano, di Pesaro e non solo, ma non perdetevi se non avete visto la nostra seconda edizione di Masterfish, una nuova puntata questa sera alle ore 21 e 20. E poi ancora domani ci ritroviamo con la nostra rassegna stampa, domani è sabato, ci sarò io con voi e quindi vi aspetto in diretta sul canale 80, in diretta sulla nostra applicazione, sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook alle 7.20. E poi vi ricordiamo anche che se vi siete persi le notizie della settimana avrete l'occasione di rivederle o comunque di vederle per la prima volta il sabato alle 19.30 o alle 23.30, la domenica alle 6.30 del mattino, alla mezza e alle 22.30. E adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni, come saranno soprattutto le temperature. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie.